Icono ben desidero nel semismo santuario di Montellegro per il rettore, padre Gianluca, e entreranno in mis manos nella novena alla Virgen di Montellegro. Un piccolo segno della diocesi di Chiavari resterà a Cuba, Santo Domingo, nel paese di Caio Beiuco, che è consacrato alla Madonna di Montellegro. L'immagine del santo quadretto, benedetto durante la novena rapallese, è arrivata a destinazione. insieme ad un'offerta per alcune cure degli abitanti di uno dei villaggi più poveri della missione. Nel giorno della festa patronale della Virgen de Caridad, Don Maurizio Prandi ha consegnato questo quadretto, impartendo la benedizione prima della collocazione sulla parete, in sostituzione a quello portato vent'anni fa sull'isola. La festa della Madonna del Cobre, patrona di Cuba, è stata preceduta dalla novena animata in diverse comunità. Si prega Maria, ci si affida a lei per imparare a vivere il proprio eccomi, sono qua, e a fare vivere la parola di Dio. Una festa cara ai cubani, quest'anno condivisa con il gruppo di giovani della Diocesi, che ha trascorso tre settimane sull'isola, a contatto con diverse realtà. I bambini, i giovani, gli anziani, gli ammalati. Tante immagini che hanno toccato il cuore dei partecipanti a questa esperienza missionaria, conclusa idealmente proprio nel giorno della Madonna del Cobre. Tante immagini che hanno toccato il gruppo di giovani della Diocesi,